Marco, pronte ragazzi abbassiamo un po' appena la musica, Alpizio si parte 3 minuti vediamo la partenza e all'inizio scoppia facile il pallone poi guarda che sono palloni testati oggi pomeriggio ho fatto il collaudo dei palloni e si è visto che è difficile rompere i palloni nell'ultimo minuto Marco Angelozzi giocava una volta con la squadra di San Giovanni l'anno scorso questo anno non giocherà probabilmente scusi ma sta beccato l'alumno sta beccato, sta legato in Genosalama sta reggendo la sedia vediamo e qua andiamo sempre col doppio colpo hai visto? e qua ce ne va tutto di zumba mamma mamma come si è classico? ma hai chiesto di me? non vi dico che hai detto le sono testi dai? le sono testi dai? le sono testi? e che se ci si voleva sentita veramente questa volta ha fatto bene adesso inizia a mancare un po' di fiato e quindi non è facile non è facile rompere il palloncino oppi la maiale si riusciva a cascavo eh! allora 30 secondi al termine ecco qua questo è il vero gioco l'interpretazione 20 secondi al termine 15 10 ce la fa tranquillamente e adesso 5 stop in questo momento stop in questo momento